Prima di lavorare con DMT pensavo che le lacci era una cosa un po' più per l'estetica, per le foto e dopo di provare che mi ha detto DMT, no, no, prova e dopo tu decides che vuoi fare. Ho provato le lacci e mi ho innamorato della senzillezza e della comodità che portano. Siamo qua a Javia, al mio paese, prima di partire una stagione che per me è importante, dopo l'anno scorso che andato bene il finale della stagione a la Vuelta, penso che questo anno è un po' la confirmazione e spero di essere a la altura. Io ho scelto DMT perché dopo aver provato altri brand per me è stata un po' la più performante, la più confortabile per me e per questo è la scarpa che porto adesso. Penso che sia la più performante e anche la più bella e la più estetica e così mi piace. Io che sono un escalatore, quando sono in salita mi piace tanto perché sento che la scarpa non la porto, che non porto niente nel piede e per questo è una comunità che mi fa andare meglio. Grazie.